Il referendum confermativo costituzionale l'articolo 70 è emblematico perché riporta due righe in cui descrive come sono la funzione della Camera del Senato mentre il nuovo articolo 70 sono una serie di rimandi, di commi che sono incomprensibili e quando il cittadino non lo può convincere, confondilo Chi ci saga? Saranno presenti oltre ai nostri parlamentari o ai parlamentari europei anche i nostri consiglieri regionali alla Toscana e in più il professore docente universitario dell'Università di Firenze Stefano Merlini che ci spiegherà anche tecnicamente perché è giusto votare no a questa schiforma Venerdì 16, piazza Sant'Agostino, ore 21? Ore 21 in piazza Sant'Agostino sarà un dibattito quindi anche con i cittadini che parteciperanno a disposizione per l'appunto Stefano Merlini, professore che sarà a disposizione oltre che ad illustrare questa riforma potrà anche rispondere alle domande, delle incertezze chi ancora non ha capito di che cosa si parla e potremmo così finalmente capire andare a votare consapevolmente sapendo di che cosa si tratta perché è importante mis—— . . . .